Una lite da fratelli per l'eredità è degenerata in un duello a colpi di roncola e sprai urticante. È successo alcuni giorni fa a Palazzo del Pero. Alla base del violento diverbio alcune ruggini pregresse sulla divisione delle proprietà lasciate dai genitori, ma l'ultima, l'ennesima lite, si è trasformata in un vero e proprio scontro all'interno di un capanno. Uno dei due fratelli ha tirato fuori uno spray urticante e lo ha spruzzato sul volto dell'altro, che a quel punto ha ferrato una roncola e ha allungato un fendente, colpendolo alla mano e ferendolo. Un taglio profondo che ha richiesto l'intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri che hanno denunciato entrambi, uno per l'aggressione con lo spray e l'altro per le lesioni aggravate.